Un piano di rilancio che non convince e che fa temere le sigle sindacali che quanto annunciato resterà lettera morta. A Salerno si torna a parlare dell'avvertenza legata al pastificio Amato e dei suoi ex dipendenti, un'azienda fallita che ha salutato qualche tempo fa l'ingresso di un nuovo imprenditore. Dei 119 lavoratori però quasi 90 sono in mobilità scaduta o prossima a finire, senza gli annunciati investimenti e soprattutto senza alcuna certezza per il futuro. Ai microfoni di 8 Channel i rappresentanti di Will e CGL. Abbiamo ritenuto opportuno convocare questa conferenza stampa per risollevare l'attenzione sugli ex dipendenti del pastificio Amato. Da 119 posti di lavoro e da un'azienda fallita siamo in una situazione nella quale circa 90 lavoratori sono in mobilità, parte di questi la mobilità l'hanno già terminata a maggio 2015, un'altra parte terminerà a maggio 2016, l'altra ancora a maggio 2017. Il nuovo imprenditore che ha acquistato l'azienda ha fatto assunzioni per circa 26 lavoratori che noi reputiamo non sufficienti a riportare l'ex pastificio Amato al suo splendore. Questi sono lavoratori che una volta finita ovviamente la mobilità resteranno fuori e non vanno né in pensione e non sono ricollocabili. Anche perché noi questi lavoratori del pastificio Amato hanno delle qualifiche, delle mansioni ben specifiche, cioè difficile ad oggi, non fanno neanche più corsi per avere queste mansioni e queste qualifiche da non disperdere.